Buongiorno a tutti. Per la serie Il futuro nelle nostre radici, perché è da lì che riparteremo, oggi ospitiamo una storia bellissima che viene dalla Calabria. La racconta Francesco. Francesco è venuto da studente a Roma e, come tanti calabresi, è poi rimasto in questa città dove ha vissuto tutta la sua vita di imprenditore, di uomo di successo. Ma il suo cuore è sempre rimasto in Calabria. Io l'ho sempre visto partire con la macchina due, tre, quattro volte l'anno per riandare dalle sue radici, dalla sua famiglia. E questo stare chiuso gli ha fatto scrivere una storia bellissima sul piatto della tradizione pasquale che in questo periodo si mangia a Vibo Valencia e che lui non potrà mangiare qui a Roma. Le pittepie, una storia molto bella. Dalla foto e dal suo racconto anche un prodotto molto bello, ma questo ci ricorda ancora una volta che noi eravamo il paese più bello del mondo, ma lo siamo ancora il paese più bello del mondo. E quando usciremo dalle nostre case saremo ancora il paese più bello del mondo. Lo dobbiamo solo ricordare a noi stessi e ricordare agli altri. Allora noi siamo qui per editare le storie, per tradurle in inglese e poi tutti insieme facciamo questa grande opera di postarla sui social, soprattutto in inglese, per ricostruire una grande famiglia tra italiani, tra italiani emigrati e insieme costruiremo ancora il nostro futuro e un futuro più bello. Alla prossima!